Beh che dire, fin da ragazzo ero un avventuriero, mi piaceva sapere tutto di tutti e di conseguenza ho intrapreso per un periodo la strada del giornalista facendo il giornalista sicuramente all'inizio con i miei due premi in letteratura e uno in poesia si trattava solo di scrivere, cosa che magari attualmente faccio come autore ma non è più tanto quello quanto la diffusione della comunicazione sul web che ha cambiato in effetti la mia vita in questo mio profilo lavoro perché ha fatto in modo che dovessi apprendere delle tecniche nuove comunicare in modo differente, abbracciare un pubblico maggiore e quindi di conseguenza...